Che cosa vi siete portati via da questo viaggio non viaggio? Io da questo viaggio non viaggio mi sono portato via una carezza, la carezza che mi ha fatto la mia figliola quando ha visto il film, e l'ho detto in conferenza stampa, mentre si lavava i denti, ora lei farà tutte le battute, per abbassare il mood di quello che sto raccontando, farà tutte le sue battute su sputamenti vari, mentre si lavava i denti mi ha detto hai fatto un bel film. Io gli ho detto grazie di essere venuta a questa prima, e lei mi ha risposto io ci sarò sempre. E ora infanga tutto. E poi ha sposato. Eh vabbè, capito? Sì che io mi porterò via tutte le volte che qualcuno mi dirà, perché fortunatamente in tutti questi anni mi hanno abituato a riraccontarmi certi accadimenti nei film che li hanno divertiti, e poi quanto riso e poi quanto riso, io mi porterò nel mio bagaglio di emozioni e tutte le volte che qualcuno dirà mi è piaciuto il rapporto tra i fratelli e il babbo. Beh io anche mi porto dietro questa consapevolezza davvero di provare a fargli scricchiolare meno certi rapporti. Poi mia mamma è molto passiva-aggressiva e quindi tutte le volte ha, quando non ti squillerà più il telefono, quando è, tu te ne pentirai perché ricordati che chi ti fa più di mamma ti inganna. E quindi al di là della simpatia, anche crescendo, c'è questa consapevolezza che poi è quella che investe il personaggio di Nino, di voler agguantare, prima che tutto finisca, qualcosa che ancora ti possa riscaldare, ti possa abbracciare, ti possa coinvolgere, ti possa far del bene. Facendo un personaggio così egoista, ho pensato, e se ho cercato di capire me stesso, seppure io ho delle cose uguali a questo personaggio, e quindi ho pensato, ma forse devo essere più altruista, meno egoista. Mi sembra una piccola morale da catechismo, però me la sono portata appresso. Però me la sono portata appresso. E che ti sei risposto? Che rimango egoista come sono. Quindi l'ascolto, la parola e la minestra in brodo, insomma un capitolo che ancora deve essere scritto. No, poi c'è, ci sono continui, poi attraverso questo film c'è tutto un discorso che noi donne dobbiamo cercare, perché invece di... Ti piaceva finire così, è un letmo di... Invece di noi donne. C'è un luogo, un posto che è un ricordo felice con i vostri genitori? Cioè un viaggio simile oppure un viaggio che avrete voluto fare? Io c'ho un campeggio sotto Grosseto, dove forse è stato uno dei viaggi più belli, dove si andava e avevo un'età, 12-13 anni, con tutto il bagaglio di quello che può succedere a quell'età e vedevo la spensierata, e li ho sempre visti spensierati, ma lì in maniera più totale, quei campeggi degli anni 80, 70 anzi, con la roulotte, con l'andare a lavare i piatti tutti insieme, eccetera, io me li ricordo quelli e certe vacanze in una casa che si prendeva vicino a Firenze, in campagna, e me li ricordo come dei momenti magici, ma più che altro dovuti probabilmente a quell'età fantastica dove se sei felice, sei felice cento volte, sei felice in maniera scellerata. La felicità dei dodicenni non potrà mai essere vicina alla felicità dei quarantenni, dei trentenni, dei sessantenni, forse dei novantenni se si svegliano vivi. Allora, io, i miei genitori ci hanno sempre avuto da pagare il mutuo, e quindi probabilmente il viaggio più bello era quello che facevamo d'agosto verso Roma, no, verso Roma, perché il mio babbo abitava, i miei nonni erano toscani, ma si erano trasferiti a Roma, e quindi mi ricordo il fatto che andavamo, questa partenza con questi stornelli romaneschi che erano anche un pochino volgari, quindi arrivavamo in questa casa dove c'erano i miei nonni e andavamo ai cancelli, quindi mi ricordo questo profumo dolciastro del mare, io sono comunque dell'entroterra, sono di Firenze, quindi nel Tirreno mi ci sono bagnata poco, era troppo da ricchi. E quindi mi ricordo questi momenti in cui il babbo poi mi comprava il supplimi, comprava il bombolone a bomba, ed erano i momenti in cui stava più che altro, come ha detto Leonardo, tutti insieme, perché poi lavoravano, hanno sempre lavorato tantissimo, io sono cresciuta un po' con i miei nonni materni, quindi quello era il momento in cui si facevano le cose insieme, era veramente villeggiatura. Io sono nato in periferia, un villaggio a 7 chilometri dalla città, e mi ricordo, viaggi non abbiamo fatto mai, i viaggi, anche perché il posto dove sto io è turistico di mare, è bello, però l'unico viaggio, mio padre aveva la Vespa, non aveva la macchina, e quando andavamo alle feste di Natale, da una mia zia, che aveva la casa grande, che era il quartier generale di tutti i frasi, ci riunivamo là, io prendevo l'autobus, scendeva una fermata con le mie sorelle, mia madre e mio padre andavamo con la Vespa, ci aspettavano, e andavamo da sta zia, dove là c'erano tutti i cugini, i regali, ed era bello quello, il viaggio con l'autobus, numero 9. Grazie, a te, grazie a te.